Qui i turisti non vengono a cercare solo le opere d'arte, i monumenti, vengono a cercare il segreto della vita. Una rassegna di iniziative invita a scoprire le storie poco conosciute della città, a visitare i luoghi simbolici, ad esplorare la tradizione di musica sacra. È stata presentata questa mattina a Palazzo Serra di Cassano, vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni, un progetto sostenuto e promosso dal comune di Napoli che si svolgerà dal 5 novembre al 23 dicembre. Come facevano nell'Ottocento i grandi viaggiatori stranieri che si affittavano sedie al pallonetto di Santa Lucia e sui quartieri spagnoli e stavano lì ore fermi a contemplare che cosa? Lo spettacolo della vita di questa città. Una città che, come si dice, è più facile riconoscere che conoscere veramente. E una rassegna come questa tenta di svelarla, di farla conoscere, di fare andare oltre il folclore. Lo scopo è quello di far conoscere ai cittadini e anche ai turisti molti luoghi legati alla nostra tradizione, appunto legata al profano, perché sappiamo che comunque Napoli è una città di esoterismi, munacelli, bellambriana, eccetera, eccetera. Quindi l'idea è quella di far conoscere posti ancora non scoperti sia al cittadino che ai turisti, quindi attraverso itinerari, visite guidate, seminari, approfondire quindi queste tematiche e non mancheranno anche concerti a tema di artisti della nostra terra. Sono in programma seminari su fatti e leggende napoletane, visite guidate nei luoghi simbolo del mistero, concerti di musica classica e popolare, spettacoli teatrali e il teatro dei burattini. Il programma completo su www.comune.napoli.it È la terza stagione del programma di quattro stagioni che avevamo annunciato all'inizio del nostro mandato per dire che volevamo offrire ai turisti e ai cittadini napoletani una programmazione permanente negli anni che fosse basata sulle stagioni proprio diciamo meteorologiche ma anche sulle varie e diverse peculiarità della nostra città. Questa di cui inizia adesso e proseguirà fino a metà dicembre è basata sulle storie, le leggende, le tradizioni della Napoli Sacra e anche della Napoli misteriosa. Al grande fondale della nostra città d'arte si accompagna un'offerta di alto livello che però mantenga il valore identitario di Napoli e lo coniughi con la creatività e anche la creatività giovanile che abbiamo nella nostra città. Quindi è un lavoro complesso che però sta dando degli ottimi risultati e sono molto soddisfatto perché abbiamo avuto un grandissimo successo di pubblico le ultime rassegne, quella per esempio Anima che è stata ispirata al culto dei morti ha avuto un tutto esaurito incredibile quindi è quella che presentiamo oggi sul rapporto tra sacro e profano magia e sacralità è un altro tratto distintivo di Napoli facendo scoprire anche luoghi e itinerari sconosciuti. Grazie 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 Grazie